The Show Oh, è una biblioteca Ma il silenzio è una biblioteca E' quasi di Natale E quindi? E' una malizia la canzone E ma non si capisce, devi far così, aspetta Caro Babbo Natale Come ogni anno mi accingo a scriverti la letterina So che mi ricevi davvero tante da tantissimi bambini Ma so anche che tu ti impegni un sacco per leggerle tutte Quest'anno ho fatto davvero il bravo Pensa che ho aiutato anche la mia mamma a fare le faccende domestiche Inoltre ho caricato tutte le settimane un video su The Show Il canale che ho con il mio amichetto Alessio Per fare felici i nostri iscritti Punto e a capo Quest'anno vorrei tanto un regalo speciale Mi piacerebbe ricevere in dono da te il forno di Peppa Pig I miei amichetti mi hanno detto che ci puoi cucinare veramente il porcetto sardo E a me piace molto il porcetto sardo No Babbo Natale Guardandomi intorno ora Mi rendo conto che c'è gente che ha molto più bisogno di me Forse questo Natale dovreste aiutare loro Non voglio più il forno per fare il porcetto Qui a fianco a me c'è una ragazza poverina Ha un maglione giallo orribile Si vede che non se ne compra uno nuovo da tanti anni Vorrei che tu regalassi a lei un bel maglione nuovo per farla contenta Guardando i suoi capelli vedo che forse non vado al parrucchiere da circa tre anni Babbo Natale, regalale anche un buono coupon per il parrucchiere Caro Babbo Natale, io penso che il Natale significhi che devi essere gentile con gli altri Prima di chiedere quello che vuoi tu Te riferisco a fare felice questa ragazza indigente piuttosto che ricevere il forno di Peppa Pig Questo significa il Natale Indirizzato a Babbo Natale Lappogna Salutami anche Mamma Natale Firmato Alessandro A Natale poi Il Natale è blu A Natale si può fare di più Con noi A Natale poi Il Natale è blu A Natale si può fare di più Sulla sentire più Il Natale è blu A Natale è blu A Natale Pandoro perché i cantici non mi piacciono Che cosa... No Hai fatto il Bravo quest'anno? Si Come ti chiami? Si Mi risulta che ti stai masturbando molto spesso No, ma non è vero Sicuro? Un giur. Non si dico le bugie Guarda che se fai il Bravo ti faccio arrivare una bella gnocca a Natale mi raccomando è un ambiente un po' stile per studiarmi troppo asettico va meglio si si non non è natale senza palettone a me i canditi fanno il pastiglio fa un po sei dieta tu continua a porre che sanno riesco a studiare manca ancora qualcosa allo a me a me a me a me a me a me Buon Natale Grazie Buon Natale Buon Natale Buon Natale